E a questo punto invito sul palco Ivan Pugliese e Francesco Vettica, di Fifth Beat. Ciao Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Ivan e Francesco, non so se dovesse partire per caso una sigla, nel caso ce la fanno poi ripartire dopo dalla regia. Allora, benvenuti a questa edizione del Freelance Camp Roma. Avremmo sperato, avevamo sperato di vederci dal vivo, ma ahimè, siamo qua, non possiamo fare diversamente. Vi vedo in smart working, mi sembra che lo spondo di Francesco sia piuttosto casalingo, o mi sbaglio? Assolutamente sì, la cara di mio figlio. Altrimenti è un ufficio particolarmente accogliente. No, invece l'ufficio è questo che vedi alle mie spalle, che non è per niente accogliente, ho scelto questo sfondo bianco, neutro. Va benissimo. Sentite, ma raccontateci un po', raccontate, io lo so già, ma raccontiamolo alle persone che ci stanno ascoltando che cosa fate in Fifth Beat, che è un'azienda che accompagna le imprese, piccole, medie e grandi, in percorsi di innovazione centrati sulle persone. Sì, esatto. Noi in Fifth Beat in realtà cerchiamo sempre di progettare prodotti e servizi con le persone al centro, quindi sempre cercando di ascoltare quelle che sono le necessità delle persone che utilizzano il servizio e il prodotto e quindi aiutando aziende in realtà di qualsiasi grandezza, senza focalizzarci nello specifico su settori particolari. Quindi tendiamo ad essere molto polifunzionali in questo. E poi non so se Ivano vuole aggiungere qualcosa nello specifico. No, questo diciamo ci rivolgiamo, ma questo lo diremo anche, l'avevamo anche, come dire, inserito nelle prime slide del talk per presentarci velocemente. come azienda lavoriamo sia con grandi aziende, sia con istituzioni, sia con organizzazioni diverse, insomma anche come grandezza. Quindi abbiamo clienti di vario tipo, lavoriamo molto anche con il mercato estero e insomma siamo qua, stiamo resistendo. Come abbiamo detto nell'intervista che ci avete fatto prima dell'evento, stiamo resistendo anche al Covid abbastanza bene, insomma ci siamo naturalmente dotati di tutta una serie di processi, di pratiche nuove, chiaramente perché siamo tutti da remoto e quindi insomma reggiamo botta. Ma sì, allora guardate, vi lascio la parola per il vostro talk, Friend and Contributors, i freelance in uno studio di design. A voi. Grazie. Allora, grazie, comincio io, ci ripresentiamo, io sono Ivan Pugliese, sono CEO, direttore operativo di Fifthbit, Francesco invece è il nostro Head of Design, e appunto vi presentiamo velocemente Fifthbit, in questa presentazione vi vogliamo raccontare soprattutto qual è il nostro rapporto con i freelance, è un rapporto particolare ed è un rapporto che va avanti nel tempo e a cui teniamo tantissimo perché tante delle nostre risorse migliori vengono proprio da quel mondo. Fifthbit, come dicevamo appunto nell'introduzione di Alessandra, è una società che nasce per fare human center design, in questo momento preferiamo dire che vogliamo seguire dei clienti, delle organizzazioni, delle aziende, delle associazioni no profit, che vogliono fare realmente innovazione, per noi innovazione vuol dire non solo riprogettare, ridisegnare dei touch point digitali dei nostri clienti, ma vuol dire fare tanta ricerca, quella che noi chiamiamo continuous research, perché vogliamo fare appunto continuous innovation, vogliamo accompagnare i nostri clienti in questo loro percorso di crescita. Come dicevamo prima, mettendo sempre al centro le persone, quindi i bisogni degli utenti, dei clienti, ci piace tanto lavorare insieme al cliente, noi diciamo sempre che siamo impegnativi perché chiediamo alle aziende con cui lavoriamo di fare team con noi, quindi di seguirci, di darci un feedback continuo, perché preferiamo progettare per iterazioni e non disegnare, progettare un prodotto da portare finito sulla scrivania del nostro cliente e che poi magari è inservibile, ci accorgiamo che ci sono degli errori di design, di progettazione, e quindi preferiamo invece seguire questo percorso insieme al cliente che ci aiuta, ci dà dei feedback continui, ci aiuta a migliorare, ci fa entrare anche nel suo dominio pian piano, perché naturalmente abbiamo clienti di tutti i mercati. Parliamo di persone, naturalmente, quando parliamo di freelance, vi diamo un po' di numeri proprio velocissimamente, in Fifth Bit in questo momento siamo circa 64, poi naturalmente è un numero che abbiamo messo lì che varia a seconda, insomma, dei contributi che ci arrivano anche dall'esterno, sono cinque soci, una ventina di dipendenti e una quarantina tra contributor e friends, li vedete nella slide segnati in arancione, perché sono appunto i nostri freelance con cui collaboriamo. In questo momento abbiamo cinque team cross funzionali, poi Francesco entrerà nello specifico anche del loro significato, abbiamo due uffici principali a Roma e Milano, abbiamo una piccola unit anche a Berlino, e i ruoli, li vedete lì, naturalmente quelli principali sono user researcher, interaction designer, UI designer, data analyst, organization designer. Quali sono i ruoli che ci sono in Fifth Bit? Abbiamo quattro tipi di rapporti, che poi sono anche rapporti di lavoro sostanzialmente, il biter è il dipendente a tempo indeterminato, i contributor e i friend, come recita anche il titolo di questo talk, sono i freelance che collaborano con Fifth Bit, e poi abbiamo gli intern, perché molti dei nostri manager, e non solo, insegnano in una serie di istituzioni universitarie, di master, per esempio, ne cito uno, Francesco è uno dei nostri docenti, insegna il Politecnico di Milano nel master di product design. Contributor e friend per noi sono appunto freelance, e sono due tipi di rapporto diverso che abbiamo con loro. Il friend è il freelance che collabora con noi direttamente su un progetto singolo, in maniera spot, questo perché magari perché ha una verticale particolare, ha delle skill particolari che magari non abbiamo in azienda, e quindi andiamo a prendere all'esterno, oppure perché è una persona che ancora non conosciamo, e quindi vogliamo testarla su un progetto per capire se lavoriamo bene insieme, se ci troviamo bene insieme, per poi magari farlo, come dire, diventare contributor. Il contributor è, come dire, il freelance che con noi ha un rapporto molto stabile, di fatto per noi è come se fosse un collega sempre presente. Dal punto di vista contrattuale, il contributor con noi è inquadrato con un contratto che può, come dire, che gli garantisce da parte nostra un floor minimo di giornate, che può essere settimanale, mensile, annuale. Preferiamo in questo momento fare dei contratti molto lunghi con i contributor, proprio per legarli a noi e per dare anche a loro la possibilità di, come dire, di stare tranquilli e di entrare effettivamente nel nostro processo di design, che poi vi spiegherà Francesco più avanti. Quindi facciamo questo, noi garantiamo magari 100 giornate in un anno a questo contributor, e lo inseriamo all'interno dei nostri team sui nostri progetti. Quindi per noi i contributor fanno parte dei team cross funzionali all'interno dell'azienda, hanno l'accesso ai nostri uffici, fanno con noi le retrospettive aziendali. Nell'intervista prima del talk dicevo che loro contribuiscono a creare anche la cultura aziendale e i valori aziendali perché permiano l'azienda con le loro idee, con i loro interessi. Fanno con noi anche formazione, noi abbiamo tutta una serie di, in azienda, tutta una serie di iniziative di formazione interne, esterne, partecipazione ad eventi, e i contributor possono farlo come se fossero dei dipendenti. E a volte, soprattutto per i contributor più giovani, diamo anche un aiuto dal punto di vista hardware e software, nel senso che forniamo a volte anche delle macchine per lavorare, o delle licenze, dei software che utilizziamo in azienda. Per quanto riguarda invece poi il processo di design e come vengono inseriti all'interno del nostro processo e dei nostri team, c'è Francesco che è pronto a raccontarvi meglio come funziona. Grazie Ivan. In realtà mi leggo a quello che raccontava Ivan un po' su come freelance, quindi per freelance intendo sempre sia contributor che friend e si inneschino all'interno del nostro processo di design. In realtà, come sappiamo tutti, quando parliamo di design, di team, di lavoro, ci immaginiamo sempre di un lavoro fatto di squadra, quindi non siamo mai il single designer che lavora nella propria stanza e quindi train al progetto sono sempre tutti i membri del design team che lavorano sul progetto e per allargare un po' la scala quello che cerchiamo sempre di fare è mettere all'interno di questo flusso di lavoro anche il cliente, anche il partner tecnologico, altre aziende di design che collaborano con noi sul tavolo, quindi diventa davvero un team allargato di lavoro. Per quello era un po' sottolineata quella piccola parola insieme che è molto importante e all'interno di questo gruppo, questo contesto, la parte di freelance è importantissima perché comunque sostanzialantissimo è il nostro lavoro. In realtà c'è questo piccolo inciso che dice che comunque il rigore del design è contestual a tutti i team, a ciascun team e per team intendo a due piani, intendo il team come azienda, quindi all'interno dell'azienda c'è un rigore che è stato costruito negli anni, noi non siamo un'azienda storica, abbiamo cinque anni di attività, in questi cinque anni il nostro rigore, per rigore intendo governance, intendo policy progettuali, intendo standard, si sono man mano stratificati. Per far sì che questa attività sia strutturata, comunque abbiamo ascoltato sempre le esigenze di ogni persona all'interno del team e quindi a tutti i livelli, dai friend ai contributor ai beater ma anche l'interno quindi tutte le persone del team riescono a contribuire a questa standardizzazione, a questo rigore del design e quindi questo è un po' a livello macro e a livello micro in realtà ogni singolo team cross funzionale che Ivan introduceva hanno un proprio rigore, hanno una propria mini governance interna con delle velocità che gli permettono di lavorare in maniera molto più agile e per questo un po' raccontarvi la nostra struttura che come vedete è quasi spezzata in due. Abbiamo questi team che in questo caso sono denominati con colori e abbiamo fatto partire questo esperimento un anno e mezzo, due anni fa in realtà ma non è una cosa che facciamo solo noi assolutamente molte grandi aziende utilizzano team cost funzionali per cross funzionali intendo come per esempio Team Pink ha all'interno due figure che fanno più la parte di UI di visual design due figure che fanno la parte di UX e interaction e due che fanno la parte di user research quindi quella parte di scoperta degli insight. Come loro tutti i team hanno questa cross funzionalità vuol dire che comunque cerchiamo di dedicare ad ogni team un numero finito di progetti quindi vuol dire che per esempio Team Pink al momento segue tre progetti strutturati non c'è content switching non c'è la difficoltà di passarsi le informazioni e anche lì man mano che si lavora insieme si tende sempre di più a conoscere la persona che abbiamo accanto conoscere la velocità quindi se ha un lato più grande la parte di governance deve essere comunque sempre strutturata internamente il team conosce la propria velocità conosce la propria skill sa le persone più adatte per fare quell'attività specifica in quel momento su quel progetto e in realtà asserta anche quelle che sono le aspettative progettuali come vedete i contributor in questo caso segnati in rosso sono all'interno di ogni team quindi all'interno di ogni team oltre ad avere un layer di intern abbiamo sempre dei contributor che sono sia fissi all'interno dell'anno oppure che vengono inseriti e staccati in base alle necessità anche qui quando parliamo di friend di freelance non parliamo solo esclusivamente di figure senior o solo di figure junior in base alle necessità cerchiamo sempre di di mettere all'interno figure di tutti i livelli nel momento in cui subentrano all'interno del team del progetto se sono nuovi friend cerchiamo sempre di fare un onboarding molto strutturato quindi gli onboarding sono molto importanti proprio per passare quelli che sono un po' i principi di Fitbit all'interno del tavolo e far percepire cosa è il valore per noi verso i clienti ma diamo anche un ownership molto forte cioè tendiamo a dare un'accountabilità molto alta a tutti i contributor che molti di essi guidano il progetto molti di essi guidano per esempio Team Orange o guidano per esempio Team Indaco quindi non solo non ci sono solo i biter quindi le figure chiamate full time all'interno del progetto che guidano ma sono addirittura i freelance che guidano un progetto e sono a capo di quello che è il valore che possiamo consegnare sul tavolo quindi anche lì tendiamo sempre a dare una totale ownership a tutti i layer all'interno dell'azienda e questo ci permette di essere molto più flessibili e anche di non far percepire alle persone che lavorano un po' meno con noi quindi lavorano nel day by day e farci percepire come un unico team e proprio per questo c'è un po' questa vista che ci fa capire che lavoriamo metà e metà con persone interne e persone diciamo contributor che entrano e escono e se non facessimo questa attività di condivisione condivisione di pratiche anche di ownership e di accountability avremmo metà team totalmente scollegato e si sentirebbe un po' come diceva giustamente Ivan diamo la possibilità di accedere a tutti i nostri tool che utilizziamo ne abbiamo tantissimi altri e all'interno di questi tool quello che tendiamo a fare è aprire al massimo quelle che sono le visibilità dei team quindi anche il friend che entra su un progetto specifico un mese intero vede tutti i progetti di 5-bit questo ci aiuta un po' a far percepire anche al freelance che non è all'interno di una scatola chiusa ma anche per capire quali sono le buone pratiche che vengono utilizzate all'interno dei vari progetti e quindi c'è un po' questa grande unione questo grande scontro all'interno dei team in cui c'è davvero una condivisione molto forte e c'è davvero un aiutarsi a vicenda quindi anche lì le pratiche all'interno del team sono essenziali per essere portati avanti e qua c'è la parte di manager che tende e cerca ogni volta di standardizzare unificare i vari team altrimenti diventerebbero isole all'interno del mare e quindi un po' quello che ci interessa davvero fare è tentare di unificare questo linguaggio per essere portato all'interno dei vari giorni sia progettuali che all'interno di un anno intero quindi non è tanto importante fare bene una cosa in quel momento ma è continuare in questa pratica in maniera continua in realtà per quello cerchiamo anche di dare la possibilità a tutti quanti i friend e ai contributor di partecipare come per esempio a formazione quindi la formazione non è dedicata solo e esclusivamente alle persone interne del team ma anche a contributore freelance oltre la parte di formazione c'è anche la parte di conferenze oppure di talk specifici formazione sull'inglese per esempio diamo anche degli slot per partecipare a conversazioni in lingua inglese per fortificare un po' questo aspetto molto importante e oltretutto tendiamo sempre a spingere la parte di crescita quindi in quel caso il freelance porta sul tavolo tantissime innovazioni porta standard porta nuovi punti di vista a qualsiasi piano agli anni di seniority più alta e più bassa e quindi come dicevo un po' prima non facciamo percepire queste figure che entrano e escono come delle figure solitarie che sono lì e cercano di combattere contro qualcosa che neanche conoscono e quindi lì quello che tendiamo a fare è sempre avere spazi sia fisici che digitali in questo caso in realtà in questo momento ci siamo sposati totalmente nella parte remota diamo a disposizione sia Roma che Milano con degli spazi condivisi su prenotazione quindi le persone se vogliono vanno affittano il desk prenotano il desk entrano all'interno e fanno riunioni ma comunque tendiamo sempre a dare questa massima visibilità al team e quindi questo spazio di condivisione anche di richiesta quindi di crescita di consiglio a manager a senior per proseguire e comunque è valore porta valore sul progetto e valore al cliente e quindi quello che vogliamo sottolineare è che ci fidiamo molto le persone che mettiamo sul tavolo e queste relazioni molto grandi ci hanno permesso di costruire questo network importante di persone non enorme ma comunque ci permette di avere una grandissima fiducia e quando mettiamo quelle persone sul tavolo per noi sono persone dell'azienda e quindi hanno totale ownership e accountability per quanto riguarda parlare con un cliente fare formazione anche a persone interne oppure portare nuove nuove pratiche in realtà dovrei essere anche stato nel tempo tanto vi ringrazio non so se Ivan vuole aggiungere qualcosa che ho perso oppure se ci sono domande prego grazie a tutti grazie se ci fossero freelance interessate a contattarvi trovano i vostri riferimenti in fondo all'intervista che abbiamo pubblicato sul blog oppure vi trovano vi cercano su linkedin o vi scriverò direttamente dal sito suppongo che sia assolutamente possibile alla regia che ha rimesso sui vostri indirizzi grazie di nuovo a voi due per le cose che ci avete raccontato e a Fitbit tutta per avere sostenuto questa edizione online del freelance camp Roma grazie a te grazie a te Alessandra grazie a te Alessandra ciao